Ancora un appuntamento dedicato al momento del sì. Le aziende aquilane si sono date appuntamento a Exposa, la manifestazione di esposizione e conoscenza per trovare tutte le soluzioni perché il giorno del matrimonio sia indimenticabile. Abiti per lui e per lei e per i paggetti, fotografie, acconciature, trucco, arredo, dolcezze varie fino all'assicurazione. Un percorso guidato per le coppie, per tutti i preparativi fino al giorno più bello, ma anche un modo per i commercianti e le imprese di sperimentare un percorso di lavoro in collaborazione, come sottolinea il presidente della CNA Agostino del Re che ha dato il patrocinio all'iniziativa. Penso che la cosa più importante nella città in generale, ma soprattutto per l'Aguila, è quella di creare una politica attiva dell'economia. E questo è un esempio in cui, chiaramente, una realtà come quello che può essere un evento, che è il matrimonio, può portare e migliorare la qualità di quelle che sono le professionalità esistenti sul territorio. Quindi, ovviamente, è un pieno coinvolgimento di tutte quelle che sono le specificità, come ripeto, che possono fare squadra. Per noi, chiaramente, laddove la CNA o le associazioni svolgono il loro ruolo sono fondamentali, dopodiché, se si esistituiscono alla politica, allora, politica partitica, dico io, allora non servono a nulla, né tantomeno a manifestazioni eclatanti, che sono quelle di dare fumo e non dare risultati. Oggi noi abbiamo una realtà in cui, chiaramente, il territorio, ma in generale l'economia nazionale, ha bisogno, soprattutto, delle associazioni, affinché ci possa essere anche un indirizzo di come si può cercare di invertire questa rotta ormai negativa e portare avanti anche realtà artigianali di alta qualità con la giusta professionalità.